ho capito? se ci hanno un piano non ti hanno fatto i conti dei mezzi ma dai, non ci fai così eh che è? si, ti tirano acqua ma vai ci fai così perchè stai l'ossi buona ma no non è solo l'ossi non lo ha persino più uno da paglialloni proprio per scorpo così faccio prima dai, dovevi stare zitti dai, dai, ok, oh, prima e l'ultima partita se rigioca più eh perchè abbiamo sempre giocato così e ho stata una puzza per il niente ma che gli ha detto ma che gli ha detto il coglione che l'ha messi qua ma cosa hai fatto? mamma mia regà eh non lo dite più no ma che faccio io forza dichiara guerra dichiara guerra si sta zitto una macchina si è più facile se gioca più ha un risultato il problema ma come cazzo gioca? ma tu mi dici no? come fa sta zitto? che ti prega? che ti prega? si perchè dici che la partita gioca più da l'ora tu ti guardai buona si si ma dici che la partita gioca l'ora se stiamo a gioca così a gioca a cazzo a far vincere la gente o di te prima non si gioca tre a due a tre io non ho detto io non ho detto faccio non gioca più ma non ho parlato ma no chiedo che è successo che è successo 5-3-1 faccio giocato mi piace a lui ognuno ha la strategia sua 2-1 5-5 non trovi tutti non trovi tutti i fernando che quando vince a giocare si è butta a destra e a sinistra per casseggiare eh oh da quando l'ho cominciato se apriamo quello che vieni basta se parla più non sa te ne parla io si hanno rompercavo perchè l'abbiamo sempre fatto se tu c'hai a vincere uno si allora il punto è questo sono vent'anni e già un marito di tutta famiglia sono vent'anni e già un cui dimostrata così cazzo dai tre uno non passano avanti che tutti là tutti là portavo da là vabbè alla fine io avrei attaccato stesso perché c'hai la remita quello è una cosa logica ma chi è scommetto che il cacacassi è Andrea si ma anche se non si rafforza il sud americano attacca adesso che aspetta che si rafforza a me c'hanno al minimo 5 giri per attaccare oh ma guarda che palle però tanto sai riprende perchè se troppo bene gli dati è inutile ma non dobbiamo fare la remita dell'altro ma si ancora si no c'è poco da fa avevo sempre un gioco così questa la musica basta ma io quando gioco io non dico le hai la rendita ho dieci anni si ho vent'anni che giocavo ci sono anni che giochiamo l'abbiamo sempre fatto poi ci sei andata al pulso basta no mi sono andata al pulso ho vent'anni che giochiamo così non è una prima volta a giochere morizio vant'anni che giochiamo così quanti ritiviamo cambiati si però io ho생a si perché mi la deixo 머 a me non lo leggo a me perché sto recalingando quel giro rested Ah, signora, signora, signora.